Una delle autostrade mai realizzate è l'autostrada del Mulise. Avrebbe dovuto collegare Tirreno e Adriatico, partendo da San Vittore lungo l'autostrada del Sole e arrivando a Termoli, passando per Isernia e Campobasso. Circa 150 chilometri, 120 viadotti, 15 gallerie e 35 svincoli. La società Autostrada del Mulise S.P.A. venne fondata nel 2000 e l'autostrada venne inserita tra le opere strategiche di interesse nazionale nel 2010. Ma si sa, siamo in Italia. Anni di stallo burocratico, lavori mai avviati e la società viene messa in liquidazione nel 2018. L'unico tratto mai costruito è la variante di Venafro, poco più di 8 chilometri parte della statale 85. L'opera potrebbe avere sicuramente una certa utilità nel concorrere allo sviluppo della zona, ma con un'ulteriore diramazione creerebbe continuità autostradale tra Napoli e Pescara. E voi cosa ne pensate dell'autostrada del Mulise? Andrebbe rifinanziata?